Sono stati attivati diversi centri di raccolta di beni di prima necessità all'Aquila da inviare nelle zone colpite dal sisma. Come riportato su Facebook e su diversi media e condiviso immediatamente da tanti utenti, è possibile portare indumenti, acqua e altri generi di prima necessità in viale della Croce Rossa 75, dove è stato allestito il punto di raccolta. Punti di raccolta anche organizzati dalle parrocchie come quella di Gignano o di Pile, mentre altri spazi per radonare sono stati allestiti nei pressi del McDonald in viale Corrado IV a Coppito e in via Giovanni Falcone 3A. Gli organizzatori fanno sapere che c'è bisogno di coperti, disinfettante, garze, cerotti, acqua, alimenti a lunga conservazione e vestiti. Mobilitazione anche per fornire riparo alle persone colpite dal terremoto. Gli albergatori della città dell'Aquila, nei limiti della loro ricettività disponibile e per contraccambiare il sostegno morale e materiale ricevuto dagli italiani durante il sisma del 2009, metteranno di disposizione le loro stanze alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Lo rende noto, fede l'alberghi dell'Aquila in una nota, mentre il presidente del centro servizi anziani dell'Aquila, Venanzio Gizzi, rende noto che l'istituzione mette a disposizione 30 posti letto per gli anziani ospiti di strutture analoghe e case di riposo nelle zone interessate dal sisma.